A me piace l'uovo, a me i pomodori. Allora possiamo finire tutti i piatti. Ciao a tutti! Oggi presenteremo un piatto facile da preparare che noi mangiamo spesso in casa. E adesso vediamo cosa ci serve. Allora, oggi dobbiamo fare uova saltare con pomodori. Dobbiamo prendere tre uove, due pomodori e un pezzo di cipollotto, un po' di vino cinesi e un po' di salsa di soglia. E poi un po' di l'olio. Ci servono tre uove. Adesso dobbiamo i pomodori in franzi. In pezzettini ci siamo fatti. Ok, ci siamo. E per la preparazione è tutto qua. Adesso iniziamo a cucinare. Eeeh, Roby? Sì? Docca fare adesso. Allora, dobbiamo accendere il fuoco. Tiro per prima. E mettiamo l'olio. Sì. Poi aspettiamo quando l'olio diventa caldissimo. E iniziamo con le uova. E adesso prepariamo prima l'uovo. Lo dobbiamo cuocerli, farli diventare cotti. L'importante è che rimangono staccati. Adesso aggiungiamo i pomodori. A direi che rimangono staccati. E fare il cuocerco di strugare. A direi che rimangono. E' un po' di schiacciare. E' un po' di schiacciare. E' un po' di schiacciare. Ora sto facendo diventare comoda ancora più piccola. Mi metterai la salsa di soia? Sì. Grazie. Mi faccio un po' di vino? Sì, certo. Grazie. Mettiamo pochissimo. Mamma mia che buon profumo. Buono, buono, buono. Grazie. Deve aggiungere cioccolato? Sì. Adesso è pronto. Ora lo mettiamo in piatto. Cominciamo a cenare, Robby? Ok. Buono. Allora possiamo cominciare a cenare. Sì. Ciao a tutti.